Well ragazzi benvenuti in questo nuovo video, sono Dexter e oggi ragazzi siamo in un nuovo video di Heyday Allora raga siamo tornati nel mio account e io veramente non so che cosa dire Allora, come avrete già letto dal titolo avrò messo probabilmente un titolo del tipo mi avete deluso oppure avete tradito la mia fiducia o qualcosa del genere Adesso vi spiego tutto, state tranquilli perché la maggior parte di voi non c'entrano Prima di cominciare ragazzi mi raccomando un bel like ozzo al video, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina Così non perdete tutti i nuovi video che usciranno qui in questi giorni sul canale sia di Heyday che di altri contenuti E mi raccomando alle 17 o alle 18 siamo in live su Fortnite per giocare la stagione 2 del capitolo 3 Quindi mi raccomando siamo in live tutti i giorni, non mancate Allora raga, qualche giorno fa in realtà quando sto registrando questo video io, due giorni fa teoricamente voi o forse anche per voi tre giorni fa, due giorni fa non lo so Comunque in questi giorni è uscito il video sul secondo avvicinato Intanto iniziamo a giocare perché oggi ancora non ho giocato, non ho avuto il tempo oggi veramente Insomma raga, è uscito il video sul secondo avvicinato E io che cosa vi ho detto? Per entrare nel secondo avvicinato Se ovviamente non siete ad un livello alto, almeno per esempio livello 30 Quindi non avete la possibilità di entrare nel avvicinato principale E allora cosa dovete fare? Dovete per forza andare, se proprio volete entrare in un qualche avvicinato inerente appunto al mio canale YouTube Potrete entrare nel secondo avvicinato Cosa dovrete fare? Dovete ovviamente iscrivermi al canale, lasciare like e attivare la campanellina con le notifiche Una volta che avete fatto questo mi scrivete nei commenti il vostro ID, il vostro nome della fattoria E dopo mi dite anche a che livello siete Ecco io raga vi ho detto di fare questo e molti di voi l'hanno fatto Infatti raga io ho dato il permesso, visto che non erano altissimi di livello Ho detto va bene, raga non siete altissimi di livello Potete entrare nel avvicinato secondario senza problemi Raga il problema arriva adesso raga Io ora vi farò vedere che cosa è successo nell'arco di un giorno da quando ho fatto il video raga Io ve lo assicuro nell'arco di un giorno Vi faccio vedere subito Vado su il mio avvicinato Vado su cerca E vado su vicinato di Dexter Ragazzi guardate cosa succede se clicco qua Ragazzi c'è il mio vicinato 30 membri su 30 Guardate il vicinato di Dexter Y2.0 Aspettate un attimo che non so perché è buggato Ragazzi guardate che roba Ragazzi guardate che roba Io sono veramente 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 molto incazzato per questa cosa Mi dà molto ma molto fastidio Ragazzi avete tradito la mia fiducia perché Praticamente tutto il vicinato Che è costituito da queste persone raga Praticamente tutti non hanno neanche chiesto se potevano entrare Non mi hanno detto né il loro livello Non mi hanno né chiesto Non mi hanno detto se sono iscritti al canale Non mi hanno detto a che livello erano Non mi hanno chiesto il permesso di entrare E sono entrati lo stesso senza Senza raga chiedere il permesso a nessuno E questa cosa ragazzi mi dà veramente un sacco Ma un sacco fastidio Io come vi avevo detto Raga ho detto Dai Vi do fiducia Mi raccomando rispettate la mia fiducia Mettete Metto il vicinato aperto a tutti E metto il livello richiesto 10 Però voi dovete entrare se ne avete il livello minimo 15 Io raga già davo per scontato Che molte persone sarebbero entrate lo stesso nel vicinato Senza chiedere il permesso Infatti Infatti Io pensavo no Sicuramente entreranno persone di altri stati O magari anche addirittura qualche italiano Che cerca un vicinato Vede il vicinato vuoto e entra Ragazzi va bene tutto ma Cioè Basta leggere Basta leggere un conto Se siete persone che vengono da altri stati Vengono una Che ne so Vedono un vicinato nuovo Aperto Gratis Per tutti Ci entra subito Naturalmente Ma Il problema qual è ragazzi Il problema viene adesso La maggior parte Se non tutte Le persone che sono qui Sono italiane Quindi Riescono tranquillamente a leggere Vicinato di Dexter Yt 2.0 E Vedendo Vicinato di Dexter Yt Non si fanno due domande E vanno a guardare il canale Magari cercando di capire Se possono entrare o meno Io lo farei raga Ma siccome molti di voi O comunque Probabilmente Comunque alcuni di voi Hanno anche visto il video Dove spiegavo Perché E come si poteva fare Per entrare Non l'hanno ascoltato Raga Io proprio per questo Raga Da adesso Dirò ad Angelo Già in realtà glielo ho detto Di mettere il vicinato Su richiesta E di mettere Livello minimo 15 E oltretutto raga Mi dovrà dire Mi dovrà dire Chi mi chiede Chi gli ha chiesto di entrare raga Perché se no Non vi faccio entrare E ragazzi Prima era molto più semplice La situazione Cioè bastava Che voi mi diceste Il vostro nome della fattoria Mi diceste Guarda Sono livello basso Posso entrare nel vicinato secondario Io raga Se eravate iscritti al canale Vi davo il permesso E potevate entrare Gratis Aperto a tutti E livello 15 Raga Avete Tradito la mia fiducia Perché io vi ho dato fiducia Dicendovi Mi raccomando Io lascio il canale aperto Però mi raccomando Non fate cazzate Perché altrimenti Mi incazzo E avete Avete fatto una cazzata Grandi raga Veramente grandi Ovviamente Non ce l'ho Magari con te Che stai guardando questo video In questo momento Perché magari tu non hai fatto niente Ce l'ho con quelli Che sicuramente La maggior parte Sono entrati Vedendo il video Vedendo Cercando appunto No raga Avranno visto il video Dove ho mostrato il vicinato E hanno detto Vabbè Io faccio il furbo E me ne entro di nascosto Alcuni Se ne saranno fregati Del titolo del vicinato E sono entrati tranquillamente Ci sarà anche magari qualcuno Non italiano Quello Non dico che lo scuso Però raga Ci sta Perché comunque Non sono italiani Leggono qualcosa Vedono che è vuoto E dicono Vabbè Entro Però Non scuso Sicuramente Le persone Che sono entrate Cioè Proprio ragazzi Quelle che Non mi danno un fastidio Enorme E quelle che hanno visto il video Perché sicuramente Ragazzi La maggior parte Delle persone Che è lì dentro Hanno visto il video Hanno visto il video Raga E si sono Uniti Senza problemi Altri invece Sicuramente Avranno letto il titolo E hanno detto Vabbè Questo non so neanche chi sia Entro lo stesso Non me ne frega niente E quindi raga Proprio per questo Adesso ovviamente Verrete tolti Se Se raga Io adesso Farò gli screen Dei nomi Se vedo Che c'è qualcuno Che mi dice Se può entrare Ovviamente raga Ora io non solo Non lo farò entrare Nel vicinato Ma raga Lo bannerò pure Dal canale Perché io già Vi avevo avvisato Che lo avrei fatto E voi Nonostante tutto Raga Avete fatto Sta cazzata Quindi complimenti A tutti quanti Quelli che l'hanno fatto Mi raccomando Adesso Non Se Avete pure il coraggio Di venirmi a chiedere Se potete entrare Sapete che siete fritti Perché vi banno Istantaneamente Complimenti Quindi mi dispiace Per quelli che Volevano entrare Senza problemi Senza difficoltà In poco tempo Nel secondo vicinato Purtroppo adesso Sarà molto più difficile Per colpa di queste persone Qui Raga io ripeto Mi dispiace Per le persone Che volevano entrare Senza problemi Nel vicinato Ma ringraziate Queste persone Che credevano Di fare le furbe Invece adesso Ragazzi Se la pigliano Nel culo Perché ragazzi Io ripeto Vi ho dato fiducia Non l'avete rispettato La mia fiducia Quindi adesso Meritate questo Mi dispiace Ragazzi Mi dispiace E comunque A parte questo Raga Ripeto Non ce l'ho Con nessuno di voi In particolare Ce l'ho Con le persone Che sono Entrate nel vicinato Di nascosto E Proprio per questo Ragazzi Adesso Ci saranno Appunto Dei provvedimenti Diciamo Di questo genere Detto questo Raga Detto questo Andiamo Vedere Se riusciamo A completare Ok Qualcosa della barca La riusciamo a fare Riusciamo a fare La maggior parte Delle cose Non tutto Però Diciamo che Non stiamo messi male Non stiamo messi male Qui possiamo anche Raccogliere tutto quanto Entriamo a fare Altro latte Di capra Qui ho saltato Una capretta Per sbaglio Galline Facciamo le uova Tac De tac Ecco qua Andiamogli da mangiare Perfetto Perfetto E il mangime Delle mucche Al momento Non ne ho Non ne ho Per niente Non ne ho qua Vendiamo tutto Facciamo Quest'altra missioncina Con le torte E andiamo Poi a Dar da mangiare Anche Giustamente A Dexterino E Dexterina Diamogli qua Da mangiare Diamo da mangiare Anche a Dexterone Non so se ho altre carote No al momento Non ho carote Raga I'm sorry Eccole qui Pronte Perfetto Per lui Diamogli da mangiare Anche a Dexterone Giustamente Anche lui deve mangiare Poverino Tac Chissà che il magna Guarda 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 che bravo Che sei Guarda che bravo Guarda che bravo Dexterone Il mitico Ragazzi Se vi siete persi il video Di ieri Mi raccomando Datevelo A recuperare Ah posso mettergli da mangiare ancora Ok ok Va bene Va bene E Qui andiamo a togliere Con l'ascia questo E ce ne andiamo A pescare Anche al volo Andiamo a pescare Un pochino di robette Ecco qua Abbiamo tutti i retini pronti Andiamo a fare altre pesche Con sempre i retini Ecco qua Ecco qua Andiamo a prenderci queste Esche leggendarie Abbiamo pochi buoni Adesso raga Giustamente Proprio per Perché abbiamo comprato il cavallo Andiamo a fare questo Miglioriamo la cassetta A sto punto Che inizia ad essere un po' Problematica La situa Andiamo a migliorare No non posso migliorarla ancora Peccato E Qua abbiamo fatto Andiamo al volo Alla contrada Ragazzi vedete che I video diventano sempre più interessanti Perché Abbiamo un sacco di robe da fare Adesso con i livelli successivi Ci sono molte più cose da fare Io poi oggi non sono entrato Quindi ancora di più Andiamo al volo Alla contrada A prendere tutto quanto Tac Facciamo due giri Della ruota Non ho fatto le missioni giornaliere Raga Ultimamente sto giocando Molto di più a fortnite Ma penso che lo sappiate Essendo che Sono in live Quindi raga Vi ripeto Se non siete in live Mi raccomando Venite Perché tutti i giorni Ci siamo Su Su youtube Ovviamente Dalle 16 O dalle 17 O dalle 18 Più o meno Per quell'ora lì Siamo in live Quindi mi raccomando Non mancate Perché tanta roba Sono molto belle le live Mi potete chiedere Quello che volete Ovviamente senza offendere Nessuno Né in chat Né offendere me E mi potete chiedere Quello che vi pare Sia su youtube Sia su di me Oppure potete anche Chiedermi informazioni Riguardo a qualcosa Che vi interessa sapere O di youtube Oppure Qualcos'altro Magari inerente Al vicinato No anzi In realtà Raga il vicinato Vi ho già detto che Dopo questo video Dopo questo video Raga Non avrei Dopo il video del vicinato Non avrei più fatto niente Quindi in realtà Raga Meglio che non mi chiedete nulla Riguardo a quello Perché Se no Se no raga Comunque rispondono Le persone Che sono In chat Che adesso raga Probabilmente metterò Altri moderatori E probabilmente Arriveranno anche i bottazzi Che vi avvisano automaticamente In chat Quindi tanta roba Andiamo per concludere Al volo la città Abbiamo da riscattare Quello che abbiamo fatto Nello scorso video Ovvero il furgoncino Molto bello Andiamo qui A fare un pochino di cose Questa qui appunto La dobbiamo fare entrare No l'abbiamo accettata Qui mi chiede Di andare al negozio Qui mi chiede Di andare al cinema Quindi vediamo Quindi vediamo qua il cinema Mi chiede questo Non ce lo Richiediamolo Andiamo qui In il negozio Abbiamo Non ci manca questo Richiediamo anche questo Queste persone qui Non possiamo aiutare Al momento ancora Purtroppo Ok Qui abbiamo altre cose Che al momento Non possiamo togliere Vediamo se abbiamo Delle seghe Per togliere gli alberi Ah no Non sono alberi Soprattutto i piccoli Ok abbiamo due tnt Se non altro Esplodiamo qua Queste robe qui Trattoria al momento Nessuno mi richiede Di entrare Possiamo potenziare L'edificio Tanta roba Eh Si dai potenziamo Allora a questo punto Potenziamo l'edificio Così abbiamo due slot Se qualcuno ci chiede Di entrare Non so perché qui Non mi fa posizionare Il cinema Non ho idea Però facciamo così Dopo qua Ci manca questa pietra E quest'altra pietra Che facciamo esplodere Con questo E raga Bene o male Abbiamo fatto tutto Per oggi Io ragazzi Ripeto Mi dispiace Per chi voleva Entrare nel secondo vicinato Senza problemi Comunque tranquilli Che adesso Angelo si metterà A togliere Tutte le persone Che sono entrate Di nascosto E poi potrete Rientrare Senza problemi Tranquillamente Solo che Adesso raga Dovrete fare richieste E dovete aspettare Che Angelo vi accetti Sarà un processo Un pochino più lungo Raga Ma purtroppo Non è colpa mia Né di Angelo Né di nessun altro Non è neanche colpa vostra Ce l'ho Con quelli che appunto Sono entrati di nascosto O che sono entrati Senza fregarsene Del titolo Del vicinato Cioè ragazzi Se io leggo Vicinato di Dex Yt Perché magari È un vicinato Dedicato ai fan E già così capisco Ma Se proprio voglio informarmi Come entrare Vado a vedermi Il suo canale E vado a chiedere Un commento Scrivere un commentino E a chiedere informazioni Non vado ad entrare Tranquillamente Di nascosto Senza fregarmi Di niente E oltretutto Raga Molte persone Anzi Secondo me La maggior parte Questa è la roba Che mi fa ancora più irritare Sono entrate Avendo visto il video E quello mi dà ancora più fastidio Quindi perdonatemi Ma non è colpa mia Io ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto In qualche modo Anche se non è un video Molto bello In realtà questo Però ragazzi Tenevo a farvelo Perché purtroppo Molte persone Non hanno fatto niente E magari si ritrovano In questo momento Che fanno difficoltà Ad entrare Quindi ci tenevo A dirvi qualcosa A riguardo Appunto Al vicinato secondario Ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Come al solito Se il video vi è piaciuto Lasciate un commento Mi piace Iscrivetevi al canale E attivate la campanellina Non vorrei perdervi nessun video Seguitemi su social Trovate tutti i link In descrizione Mi raccomando Passate in descrizione Che c'è il mio sito web E il mio powerpoint Realizzati interamente con Canva Se volete conoscere qualcosa In più su di me E vi ricordo Che tutti i giorni O dalle 14 Sì dai dalle 14 Scusate O dalle 16 O dalle 18 Siamo in live Su youtube Per giocare a fortnite Capitolo 2 Capitolo 3 Season 2 Quindi mi raccomando Non mancate Ci vediamo domani alle 15 Con un nuovo video Qui sul canale Bella ragazzi